Viole, violini, violoncelli ma anche clarenetti e flauti per una serata al posto delle automobili all'interno di un parcheggio in un concerto del tutto fuori dai canoni. L'orchestra giovanile di Arezzo, composta da una trentina di elementi, si è esibita a mercoledì 7 settembre all'interno del parcheggio Mecenate diretta dal maestro Pasquini. Un evento promosso da Atam e Comune di Arezzo con l'obiettivo di promuovere e far conoscere più approfonditamente l'uso del parcheggio Mecenate, una struttura ancora poco usata dalla cittadinanza.